Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori Gaetano Castrovilli è intervenuto in diretta su Gazzetta.it il centrocampista della Fiorentina si è confrontato questo pomeriggio con tutti gli appassionati di fantacalcio Castrovilli ha confessato anche di aver scelto oltre al compagno di squadra Nicola Milenkovic anche se stesso per la sua formazione sul fantacalcio una scelta che lo ha premiato in occasione della gara vinta contro il Sassuolo grazie alle reti proprio di Nicola Milenkovic e di Gaetano Castrovilli invece non ha speso ottime parole per il compagno di squadra Vlaovic che scelto da un suo avversario al fantacalcio quando ha segnato una rete contro il Napoli gli ha comportato la sconfitta per Fiorentina1.com la voce del tifoso Viola Radio Fira